1, 2, 3, 4 1969, la fine di un'epoca di un'avventura straordinaria, tanto sublime quanto irripetibile. Dal tetto di Savage Row a Londra, l'ultimo concerto dei Beatles in cima al mondo, pronti a consegnarsi alla leggenda. Una leggenda in grado di concederci ogni volta un nuovo inizio e come oggi un altro tempo. The Beatles Get Back è il documento inedito della storia di questa band così profondamente umana e immortale allo stesso tempo. Diretta dal regista Peter Jackson, la docu-serie e tre episodi disponibili sulla piattaforma Disney dal 25 novembre è il ritratto più intimo e vero dei Beatles, ripresi durante la registrazione di Lady B poco prima dello scioglimento. Le sessioni furono riprese in video, registrate di nascosto da microfoni e telecamere ovunque, spesso senza nemmeno che i Beatles sapessero di essere filmati. Conversazioni private, rapporti, tensioni, colpi di scena e l'esaltante creatività di John Paul, George e Ringo è il risultato dello studio di quasi 60 ore di filmati mai visti prima girati in 21 giorni dal regista Michael Lisday-Hogg per il film Lady B. Più di 150 ore di registrazioni audio conservate in un cavo per oltre mezzo secolo. Jackson è stata l'unica persona in 50 anni ad aver avuto accesso a questo tesoro magistralmente restaurato. Il complimento più grande, ha dichiarato Jackson, è arrivato da Paul e Ringo.